Eccoci qui sabato dinner and dance del convento di Lonato di Brescia questa sera ospitiamo un grande concorso sabato 4 gennaio qui al convento ci sono tantissime ragazze tantissimi ragazzi che sfileranno per la fascia 2013 di Miss e Mr. Modo Ho notato che c'è una ragazza in coda per l'intervista adesso andiamo subito a scoprire insieme alla sua amica una delle due ragazze che erano in coda si chiama? Io Vanda Olivieri Ok Vanda da dove vieni? Da Lonato Ok da Lonato giochi in casa non è fatto sei venuto a piedi in macchina? No in macchina però abito in centro quindi è vicino E' fantastico allora che fascia hai vinto te in che occasione? Ho vinto a Leone Miss Baratello e dopo ne ho vinto un'altra però l'ho vinta ha rovato Oh fantastico allora quali sono i tuoi obiettivi della sfilata stasera qui al convento? Vi dimostrare il meglio di me stessa sfilando Ti auguro tanta fortuna e forse sei una delle tante ragazze che ha la possibilità di vincere il concorso Grazie Creppy Salutiamo? Ciao! 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 Ciao!